agente traditore rilevato civili in pericolo sistema sospeso lucciola cecante traditore rilevata lucciola cecante nemica rilevata sistema riattivato alveare restauratore traditore rilevato drone bombardiere traditore rilevato drone bombardiere traditore rilevato drone bombardiere nemico rilevato granata non ho finito con te bene non avevo finito ma dove sei usate la vostra rabbia civili in difficoltà te vuoi un po' non vado non renderti le cose ancora più difficili non vado non vado non vado agente traditore eliminato accesso deposito rifornimenti sbloccato non vado non vado non vado non vado